Chi va a D-Carry? Beh questa è un'ottima domanda devo ammettere Sono italiani, sono italiani, sono italiani Che ne sai? 99% di ceno Simo Killer, dai neanche la nanna metterebbe un nico così italiano Ah Simo Killer Sminchio Sminchio Ragazzi ma io non ve lo vorrei dire ma nemmeno loro hanno la D-Carry Se non un barda a D-Carry Beh il barda a D-Carry cerca sempre È vero mi ricordo Allora Zed lo voglio contro Zed Ragà 99% in chat No 99% è vicino Ah la schermata mi sono dimenticato di cambiare Vabbè comunque Vabbè non vi siete persi ancora nulla Vi saluto un po' troppo con ste scimmie Una guerra? Che guerra si è? Dopo mi sono fatto venire fame da solo Dopo vado a mangiare una banana 10 su 10 Eh la madò quanto io ho fatto Che sei BZ? Parli di sì Ma stia sei? Eh no sei E' che non ha un'altp Sì sì che sei Eh sei sei Avevo detto 7 prima Puoi secondi prima che cogli Vabbè Pucia pure questo Mi ci speglia Unlucky Ce l'abbiamo Quanto schiamine Non ha un'altp Viene top Sto salendo Zed Sto salendo Zed Ci pensiamo noi a Zed Comuniamo tutti e due Ero Easy Ero Bard Organs Ah bravo E adesso? Aspetta eh Aspetta 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 vieni Sto qua no manca la bot andiamo su di questo ci sei andata 19 secondi alla ulti ci sto andiamo vai prima tu però che sei fuori lusso già la maestria guarda, spammo, già la maestria ragà questo quitta perchè esiste boh ma bardo se n'è andato però potete scherci ehi nek ci crede madonna tantissimo però non ho niente guarda oh god ma quanto sei fuori che coordinazione ragazzi ma ringrazio per questa kill regalata oddio ma mi ero buggata non c'è di che prima lagga poi si bugga la prossima scusa vi giuro andavo per diritto la terza scusa è vi giuro e poi ci sarà l'ho visto in un film ero buggatissima ma il film si chiamava il mondo delle scimmie per caso no no era il pianeta ah il pianeta scusa ragazzi ma ce lo facciamo l'herald il draghetto oh 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 che vuole questo stai andando a poco si 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 ma bonnie nella giungla con bardo e il grassolo lo prendiamo che è bonnie raga ho un problema nella testa funziona a metà contro tre mid laner c'è una kill che fa bla bla no no raga raga aiuto no guarda come mi ha ucciso cazzo c'è salvata non ci credo no quello deve morire no quello deve morire quello deve morire raga no 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 sto male ma è rene l'avete visto tutti è un bug grafico chiaramente no raga cioè quello mi ha ucciso perché mi ha tirato l'igneti in testa che schifo che schifo che persona orribile prendete sto coso vado a pushare botta addio ehm c'è WC però si mi voglio una rompere il culo tra l'altro uno di noi deve stare dietro non possiamo tenerlo qua io sono botte state da soli poi io io la prendo io stai zitto che sei ap che vuoi ah ma aspetta non da più il bug di prima adesso dai ciccio bombo esatto rip però ha fatto una kill what morirò anche io secondo me da blu zio ma se uccido un animale e mi da che ne so 130 secondi di rigenerazione la da solo a me o a tutta la mia squadra eh nooo non l'ho capito nemmeno io no vado qua tutto eh allora la rileggo zio ma se io uccido un animale e mi da che ne so 130 secondi di rigenerazione la da solo a me o a tutta la mia squadra che animale che animale ci sono animali forse un mostro della giungla intende su lol quei mostri in giungla ah ok no lo da solo a te prego muore ok è morto è morto è morto è morto è morto è morto ok meno male che me l'ha ridata la ultima eh zed ha ultato lui no a me no piadra se dovrebbe piadra 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 ma io aspetterai entro a me quanto ho di pulldown un minuto un po' quale cattiveria però l'hai fatto ma che stassi prenda di carrile di nemico di preciso cosa stiamo facendo tutti qui tanto so che è world out no l'abbiamo tolto non ci vuole è fk o sguardo non lo so però uccidetelo ok ciao dai raga ma forse stiamo un po' perdendo tra un po' eh un po' non l'ho uccito ma va a fk solo l'ignite nemmeno a me non c'è non l'ho fatto particolarmente nemmeno a me non c'è non l'ho fatto parte con la furbita passa col tonno no 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 a 22 raga ma l'abbiamo fatto i 400 minion in un game eh ma come cavolo no raga ditemi che avete farmato bene perché sennò va un mazzo farmato? cosa vuol dire? e vai ragazzi abbiamo farmato bene no ma dai ma che piale la gente che succede? vabbè perché anche nocturne ha farmato cosa abbiamo farmato quelli? sì dai sì 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 abbiamo farmato hai farmato tu per un po' di noi però vabbè ah ok io ho fatto tutte le missioni che potevo avere per adesso va bene grazie vinci un Aram o snake vinci un Aram no io ho l'Aram anche io ho l'Aram da fare quindi ma che strada di io non ce l'ho l'Aram eh ma sì ma perché tu lo prendi con Riven hai fatto Riven sì ah quindi io ce l'ho i 400 minion e voi l'Aram sì esatto ah quindi se l'hanno a letto non la favo l'Aram ho preso un farmato di chiave che culo aspetta che provo ad aprire un fortiere ma perché solo a me non dà più farmato di chiave vabbè ragazzi allora ora Aram però però in teoria chi ha già giocato non può rigiocare attenzione pensiamo 6 contro 6 ora vediamo quanti siamo a giocare non ti preoccupare ma quando è che giochi 6 contro 6 a lol scusa ma quando non c'è gol ah ah bravo ah scusate trusce no grazie dai siamo in 13 sì l'ho visto in effetti è la scuola più brutta di Ligo Flescent da un fortiere dopo quella di Urgot allora aspetta 1 2 3 4 5 6 aspetta che non mi periferai mettete pure i nick vostri così non li devo cercare grazie sì io l'ho già messo sì sì ci stiamo dove li devi mettere scusa dove devo mettere scusa guarda buona se ti devo proprio rispondere sull'albero fammi minare